Ciao, benvenuto o benvenuta su BeItalian. Conosci le preposizioni italiane? Michele vive in America, viene da Roma, viene dall'Italia, ma da qualche anno vive a New York. Di mattina va a lavoro, di pomeriggio pranza a casa e riposa sul divano. Di sera esce con gli amici o con la sua fidanzata. Di solito va in bicicletta a casa di Sabrina. Ma oggi va in macchina. Michele e il fidanzato di Sabrina. Sabrina è la fidanzata di Michele. Stasera va al cinema con lui. Che film vuoi guardare? Chiede Michele. Non lo so, dice Sabrina. Forse un film di fantascienza. O un film romantico, una storia d'amore. Oppure un film d'avventura. Per me va bene un film d'avventura. Dice Michele con gioia. I due vanno al cinema insieme. E guardano il film con interesse. Il film parla di un tesoro nascosto. E' un film girato negli anni Ottanta. Il titolo del film è Igunis. Il regista del film è Richard Donner. Dopo il film, i ragazzi escono dalla sala. E parlano del film. Allora, cosa pensi del film? Chiede lui. Per me è fantastico, dice lei. Anche per me, dice lui. E ora di cena. I ragazzi hanno fame. Cenano al parco. Siedono sull'erba. E guardano la luce delle stelle. Che bella serata! Facciamo una passeggiata nel parco, dice Sabrina. I due fidanzati camminano per i sentieri. Camminano mano nella mano. E' bello il parco. Tra gli alberi c'è un ruscello. E' bello il parco. E tra le foglie sentono il fruscio del vento. E' tardi. Tra poco dobbiamo andare via. Michele dice. Va bene. Con la macchina. In dieci minuti arriviamo a casa tua. Camminiamo da un po'. I ragazzi tornano indietro. Tornano alla macchina. Davanti a casa di Sabrina si salutano. Lui dice. Ciao amore mio. Ci vediamo domani. E lei dice. Certo. A domani amore. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace. Se vuoi vedere altri video simili iscriviti al canale. A presto. Ciao.